Ho appena sentito il ministro dell'interno Lamorgese e il prefetto di Messina Librizi. Abbiamo concordato le misure da adottare sui passeggeri, non sappiamo quanti saranno, in arrivo dal nord in Sicilia. Nello stretto di Messina, allo sbarco alla stazione ferroviaria, saranno collocati i volontari della Croce Rossa, il personale sanitario della regione, la protezione civile, il corpo forestale, le forze dell'ordine, per controllare ogni passeggero, per compilare il modulo, per seguire il protocollo. Serve la collaborazione di tutti, a cominciare da chi arriva in Sicilia, che non deve vanificare lo sforzo compiuto in questi giorni da tutta la comunità regionale.